Buongiorno Sono sveglio da ieri notte Il secondo giorno c'è stato poco videomaking Abbiamo dovuto fare la colazione e la pizza la sera Quindi il pomeriggio diciamo ce l'abbiamo avuto libero Abbiamo potuto girare un po' l'isola Mentre nel video di domani che praticamente sarà il terzo giorno Ci sarà ancora un po' di roba simpatica che ci ha permesso di finire lo spot Diciamo che questo giorno dobbiamo fare più cose A causa di alcuni accavallamenti delle camere Abbiamo dovuto prolungare la nostra presenza di un giorno lì Quindi questo è quello che è successo il secondo giorno Domani vedrete il terzo che a livello di ripresa è stato quello un po' più importante Qui un attimo ne sei vista Ti sei vista No ma è questa storia che ha messo ora lui Ma sono io questo qua O ma no no che ballo con la mica di mille Ma questo lui me la ritrovai Mi segna la spia dell'olio Ah beh perché è scassato Saliamo per sopra visto che Maria non vuole morire Si Ma è bello No Sto facendo il video al vulcano Si facendo il video Sto facendo il video Sto facendo il video Sto facendo il video E non si broad Sto facendo il video Il video Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.